Gentili telespettatori, buona giornata. Abbiamo scherzato, la Lega propone una legge, dopo che la Meloni ne viene a conoscenza, magicamente la legge viene ritirata. La proposta di legge del senatore leghista Manfredi Potenti, che prevedeva la proibizione dei titoli al femminile, sindaca, avvocata, ministra, questora, a favore del maschile, non ci sarà. Si prevedevano multe fino a 5.000 euro per chi scriveva queste parole al femminile. La proposta in questione si dimostra divisiva persino all'interno della stessa Lega, ma quello che si presume è che la Meloni, quando è venuta a conoscenza, visto che lei è il capo, non Salvini, quando la Meloni è venuta a conoscenza di questa proposta di legge, abbia detto, ma neanche, per sogno. E così i vertici del partito non condividono quanto riportato nel DDL Potenti, non rispetta la nostra linea. Io mi sono chiesto, ma qual è la linea della Lega? Perché dicono non rispetta la nostra linea, ma qual è la linea della Lega? Voi lo sapete? Bah, chi lo sa? Il titolo di questa legge era Disposizioni per la tutela della lingua italiana rispetto alle differenze di genere. L'obiettivo difendere la lingua da quella che viene considerata la deriva del politicamente corretto, senza però nominare il politicamente corretto, al fine di preservare l'integrità della lingua italiana e di in particolare evitare l'impropria modificazione dei titoli pubblici dai tentativi simbolici di adattarne la loro definizione alle diverse sensibilità del tempo. Ma più che tentativi simbolici, io non li vedo troppo simbolici, vedo proprio una modifica della lingua. Da qui il divieto del genere femminile per i neologismi applicati ai titoli istituzionali dello Stato, ai gradi militari, quindi colonnella, generale, marescialla, capitana, sergenta, soldata e via dicendo. Ai titoli professionali, non so, l'architetta, l'avvocata, l'ingegnera, alle onoreficenze, gran cavaliera di grande croce, oppure, non lo so, la croce al merito, sarà la crocia alla merita, chi lo sa, la crocia alla merita, vabbè, magari no questa, però agli incarichi individuati da atti a venti forza di legge, la commissaria, il commissario, beh, potevano mettere anche, non so, tipo geometra, geometro, per esempio, visto che finisce con la A, geometra, però non è la geometra, è il geometra, finisce con la A, ma è uno di quei termini che finisce con la A, ma è maschile, il geometra, non è la geometra, quindi il geometra cosa dovrebbe diventare? Lo cambiamo anche se al maschile? Il geometro? E la geometra? Vabbè, il ragioniere? La ragioniera? Il laureato? La laureata? Questo già dovrebbe essere normale? Vabbè, insomma, e quindi evidentemente dice il relatore non era a conoscenza che siamo in presenza di neologismi o sperimentazioni, ma di parole esistenti nella lingua italiana, come riporta l'Enciclopedia Treccani, come spiegato anche dall'Accademia della Crusca, e come ci ricorda anche il sociolinguista Vera Gheno, dice i femminili esistono da tempi molto antichi, si vedano ministra e soprattutto avvocata, uno dei nomi della Madonna, quindi non si tratta di alcuna sperimentazione. Quindi dicono il relatore, quello della legge e della lega, realmente è lui che non conosce la lingua italiana, perché questi femminili esistono già e non sono assolutamente dell'esperimentazione, quindi tanta, tanta, chiamiamola mancanza di conoscenza. E quindi come spiegare la mossa di domenica della lega? Un'iniziativa individuale mi sembra veramente, perché poi quando c'è da colpevolizzare qualcuno diventa, l'ha fatta solo lui, lui che l'ha pensata la domenica mattina dopo il caffè, invece quando vengono fuori le polemiche e il governo, la Meloni, dice non se ne parla proprio, allora quelli che l'hanno ideata si ritirano e dicono che è colpa sua. Poi dicono ma guarda che questi femminili esistono già, ah ma io non c'entro niente, l'ha fatta lui, io lo sapevo che esistono già questi femminili. In ogni caso lo scivolone sulla conoscenza della lingua che ha finito per mettere in discussione i principi ormai accettati in modo bipartisan, il riconoscimento dei ruoli di prestigio ricoperti oggi dalle donne, insomma, a questo punto è una sciocchezza, insomma, nel 2024 oggi voler mettere una legge con la multa, se scrivi avvocata, oggi nel 2024 posso capire magari lo stupore appena queste cose iniziarono con questo politicamente corretto, la gente era rimasta allibita di dire ma cosa stanno dicendo, ma come parlano? oggi, e poi ricordatevi che la lingua italiana non è una cosa statica, la lingua italiana cambia ogni anno, ci sono parole che escono, parole che entrano, quindi la lingua italiana non è statica, chi vuole difendere la lingua italiana originale non esiste, perché cambia continuamente, questo è il punto, però, insomma, la legge che, la proposta che è durata 24 ore, ma la cosa poi più incredibile è anche, è anche poi il rimprovero dell'Accademia della Crusca, che è quell'organismo che decide sulla lingua italiana ogni anno, ecco, è anche l'enciclopedia Treccani, l'enciclopedia italiana che dice i femminili esistono da tempi molto antichi, anche ministra e avvocata esistono già dall'antichità, quindi non si tratta di alcuna, di nessuna sperimentazione, mamma mia, che figura, che figura, i difensori della lingua italiana che non sanno neanche quello che stanno dicendo, mamma mia, arrivederci a tutti.